S D E S E S D E Hello boys, qui New York in America Dopo i primi mesi Avanti il prossimo! Alle terme di Boario c'è un mondo straordinario Train on ride Trent'anni fa i negozianti più bravi e affidabili si sono uniti per continuare a dare i valori del servizio, della cortesia e della qualità dei prodotti. Ah oui c'est mon premier bébé, c'est le plus beau cadeau de la vie je crois. Certo che se bevo quella cosa orrenda, nessuno potrà dire che non ho coraggio. Liscia Gassata Che non mangia la dolina come un ladro e una sia? Io vorrei! Cioè vorrei! Ma se ti perdi Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa e... Siamo la realtà più importante in Europa. Siamo molto orgogliati di te. Grazie molto, mister Nassel. La tua posizione nel nostro negozio sarà molto strategica. Mi licenziate? Mi prego il perdono. Ehm... Ho... ...to go? Scusa Almeno... Barchini, dammi un consiglio almeno. Torna in Italia il più presto possibile. E tieni il caffè lo fai qui il sole picchia. Ehm... 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 Per te che la mattina spaccheresti il mondo. DJ Chiama Italia. ... ... Prendi una decisione chiara Grazie per la visione